salve tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo un nuovo tutorial ti spiego come risolvere i problemi dell'arresto anomalo di epic games che epic games chiude da solo quando provi ad avviare un gioco oppure quando stai giocando si chiude anche epic games esce un errore non puoi più avviare nulla nel gioco ne epic games quindi in questo caso anche sul sito di epic games come puoi vedere ci dice anche dei consigli da fare tipo controlla lo stato del server di epic games controllare ogni aggiornamento verifichiamo anche i nostri requisiti di sistema se possiamo sopportare epic games aggiornare i driver eccetera eccetera ed installare così anche il launcher di epic games quindi in questo caso quello che dobbiamo fare è andare un attimo su servizio di epic games tipo se vai su servizi del sistema in questo caso si può arrestare per colpa dei servizi che possono crashare tipo per esempio epic games dove sta epic online service ci clicchi sopra come puoi vedere stato del servizio arrestato tipo di avvio metti automatico e avvi così questo servizio una volta fatto tutto fai applica e fai ok chiudi la schedina vai direttamente in tasto windows tasto stat sulla tastiera più r di roma oppure scrivi direttamente esegui aprirà così questa schedina per cento app data per cento fai ok vai direttamente su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di epic games eccola qua e cancella cartella di epic games cancella cartella di epic games launcher vai su app data roaming scendi fino a giù cancella la cartella di epic games anche qua sopra se c'è mentre io non tengo la cartella qui app data local lo non la tengo neanche qui ok abbiamo cancellato le sue cartelle le sue cache suota il cestino una volta fatto andiamo sul nostro epic games eccolo qua epic games launcher mostra attropazioni proprietà compatibilità esegui il programma in modalità compatibilità per qualsiasi servizio qualsiasi sistema che voi vogliate potete testarli tutti ho messo windows 7 perché non ho mai problemi di crash o disabilità ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratore e fai applica e fai modifica impostazioni tpi elevati esegui l'override del comportamento sistema avanzato e fai ok e fai ok una volta fatto epic games lo devi sempre non sempre avviare come amministratore una volta fatto quando cancelliamo così le sue cache ci dirà di nuovo di fare l'accesso con le nostre credenziali quindi in questo caso qui metti il tuo indirizzo email o cedi o registrati per esempio non ho l'account epic games faccio direttamente o continua con xbox playstation nintendo steam facebook google apple o lego faccio su google faccio continua una volta fatto accetto così a epic games probabilmente non abbiamo ancora finito quindi in questo caso chiudiamo un attimo epic games abbiamo fatto così l'accesso quindi epic games di così la cartella ci dice anche di aggiornare così i suoi driver quindi ovviamente puoi aggiornare direttamente i driver o su gestione dispositivi oppure attraverso il sito che i link che ti ho lasciato in descrizione quindi se vai su schede video invita la mia scheda video aggiorna driver cerca i driver nel computer scegli un elenco di driver disponibili ed eccole qua scelgo uno di questi faccio avanti e installo così il driver sulla mia scheda una volta fatto se dovesse funzionare c'è l'aggiornamento di invita geforce experience è un programma buonissimo per scaricare così questo pannello e aggiornare sempre la tua scheda scarichi installi così programma questo è geforce experience questo qua ed eccolo qua vado su driver cerca aggiornamenti come puoi vedere driver geforce game ready è disponibile e mi fa fare così un aggiornamento teni sempre aggiornata la tua scheda video un'olta scaricato così l'aggiornamento lo installi e riavvii il tuo sistema per quelli che hanno amd specifiche delle schede grafiche amd ed eccolo qua tutte le schede grafiche vostre cliccate sopra tipo una di queste smd grafica prodotto grafica risorse e supporto download accelerazione del processore radio non grave driver ed eccolo qua amd drive and support seleziona così il tuo prodotto e scegli così la tua scheda scarico guardate quante schede amd ci sono quindi in questo caso se questo video di stato utilissimo su come votare le cache di epic games aggiornare sui driver ovviamente avviate sempre epic games come amministratore per non avere un crash anomalo dell'applicazione controllare sempre lo stato del server di epic games per esempio se avviate epic games e dice nessun accesso nel stato possibile non è colpa vostra ma di epic games mi è già successo e per due ore non ho usato epic games per riserve troppo affollati quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema al crash anomalo di epic games iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao